Mi chiamo Victor Lanes e faccio l'attaccante destro alla destra e questa esperienza la trovo molto impegnativa, soprattutto importante per i giovani che vogliono diventare calciatori che aspirano a questo ruolo, a questo lavoro da grande e spero tanto che, non so, in questi giorni qui qualcuno mi venga ad osservare e magari una squadra mi potrebbe già anche prendere. Vi ringrazio e arrivederci.